Crypto.com esploderà in questa data Ciao ragazzi e benvenuti a tutti in questo nuovissimo video Oggi siamo qui dove tratteremo Kronos, la crypto, ma soprattutto lo sponsor, l'azienda, il brand Crypto.com Ma prima di iniziare vi invito a iscrivervi soprattutto al canale e di attivare la campanella e non perdervi ulteriori contenuti del genere Mi raccomando iscrivetevi soprattutto al canale Telegram ufficiale Top con Italia perché sto portando ottimi metodi di guadagno Mi raccomando lascio il link sotto in descrizione Vediamo Kronos Crow, attualmente scambiabile a 0,18 centesimi di dollaro La capitalizzazione di 4 miliardi di dollari, il volume attualmente sta aumentando Allora in questo periodo storico che sto registrando soprattutto questo video Il prezzo è veramente ma veramente basso Io vi ho portato sempre Crypto.com, ve l'ho portata anche quando all'epoca si chiamava Cro, Coin Ma ora che sta a 0,18 centesimi di dollaro ragazzi Per me l'idea non cambia Crypto.com, Coin alias Kronos per me crescerà a dismisura Questo perché? Perché ci sono veramente tantissime novità per farla crescere Soprattutto partnership veramente interessanti E secondo me, ripeto, non è un consiglio finanziario Ma è diciamo una mia previsione, analisi, ok? Che Crypto.com alias Kronos può esplodere una determinata data In questo caso quello che vi consiglio più che altro Ripeto che dovete fare sempre esclusivamente le vostre analisi E andare a richiedere e utilizzare la strategia per quanto riguarda Kronos Crow È quella di avere la carta di Crypto.com Ragazzi, quello è soprattutto fondamentale secondo me Perché oltre alla carta che avremo a disposizione con diversi benefici Ad esempio vi faccio vedere qui c'è la Ruby Steel, la Royal Indigo E molte ma molte altre ovviamente possiamo avere anche, vi faccio esempio, Spotify gratuito Nel caso ovviamente sia di Ruby Steel che di Royal Indigo Mentre nel caso di Royal Indigo abbiamo anche Netflix E in questo caso ragazzi vi lascio il link in descrizione Soprattutto di entrambi i link sia di Crypto.com App Sia di Crypto.com Exchange Perché se non li avete ragazzi affrettatevi Perché secondo me il futuro sarà sicuramente di Crypto.com E tralasciando ovviamente questa strategia di investimento Perché secondo me è un'ottima strategia Perché tralasciando i benefici E tralasciando ovviamente la carta Che ci saranno anche crow ovviamente con dei rewards in caso E' ottimo ragazzi Perché possiamo andare sia soprattutto a investire in Crypto.com E sia soprattutto avere anche dei crow all'interno della carta Più ovviamente ripeto i rewards In questo caso ragazzi Secondo me ci sono diverse date in cui Kronos Qualora non ci fossero problemi per quanto riguarda il mercato Può veramente aumentare il suo valore Una data secondo me importante Che potrebbe veramente far esplodere questa criptovaluta Eccolo qui E' quando ci sarà soprattutto la coppa del mondo Sponsor ufficiale Crypto.com Qui già è stata annunciata la partnership Dove praticamente Crypto.com Sarà lo sponsor ufficiale della FIFA World Cup Qatar 2022 Tutto questo dovrebbe iniziare il 21 novembre 2022 Quindi secondo me Ripeto Parere mio personale Non è un consiglio a investire È un mio pensiero Dal 21 novembre fino al 18 dicembre 2022 Questo prezzo aumenta Ho appena visto che non ti sei iscritto al canale Che cosa aspetti? Attiva la campanella Iscriviti al canale E soprattutto guarda i nostri contenuti Perché ne vedrai veramente delle belle Mi raccomando Tralasciando l'importanza soprattutto della coppa del mondo Ragazzi Non è che stiamo parlando di una cosa da poco Ma ovviamente anche l'importanza di avere Crypto.com Di farsi notare in questo caso anche in Qatar E da tantissimi investitori soprattutto ragazzi Questa qui secondo me è la data possibile Dove finalmente si spera Crypto.com potrà risalire e aumentare il suo valore Io in questo caso vi dico la mia strategia che sto utilizzando È quella che appunto ho acquistato Quella benedetta carta Perché ovviamente ragazzi ripeto che il prezzo Ora è scambiabile a 0,18 centesimi di dollaro Quindi è un token attualmente proprio in sconto In regalo Pensando solamente tre mesi fa Che il suo token veniva scambiato a 50 centesimi E invece un 5-6 mesetti fa invece era scambiabile a 90 centesimi Quindi in questo caso io la vedo più come una possibilità di guadagno futuro Ragazzi questo secondo me è la migliore strategia da utilizzare Perché nonostante potete avere la carta praticamente con dei benefici Andrete a guadagnare ogni giorno monete di crow E ragazzi ovviamente potete avere anche diversi cashback Ovviamente dipende dal metodo della carta Soprattutto che tipo di carta volete acquistare o avere Quindi secondo me questa strategia è la migliore Ma allora ancora non è fatta la card di Crypto.com Ragazzi ovviamente ripeto c'è il link sotto in descrizione E potete andare a recuperare il tutto Detto questo ragazzi Secondo me Kronos ha veramente del potenziale Incredibile Questo perché? Perché tralasciando la capitalizzazione di mercato Che è veramente ma veramente bassissima Secondo me ragazzi Quella data precisa Cro potrebbe finalmente esplodere In questo caso ripeto c'è anche ancora Soprattutto un ampio margine di guadagno E secondo me Kronos non ci deluderà Detto questo ragazzi mi raccomando Mi raccomando iscrivetevi al canale Attivate la campanella delle notifiche Per non perdervi ulteriori contenuti del genere Mi raccomando iscrivetevi anche al gruppo Telegram Ufficiale di Top Co in Italia Per questo video è tutto Noi ci vediamo domani con un prossimo video